Il direttore sportivo Walter Sabatini nelle ultime ore ha rilasciato delle dichiarazioni che hanno ulteriormente diciamo esacerbato gli animi di chi aveva già criticato a spada tratta il suo operato nonostante manchino nove giornate compresi due recuperi ovviamente io che credo si disputeranno al termine di questa stagione ancora ci siano dei lievissimi margini per tentare un miracolo è chiaro che la Salernitana non ha dato chissà quali grandi segnali però io credo che il calcio e lo sport in generale vada onorato fino all'ultimo secondo quindi di conseguenza fare esprimere giudizi sommari quando non si ha un quadro completo ed esaustivo il quadro completo ed esaustivo si arriva quando si avrà la certezza del destino della Salernitana e comunque in un qualsiasi evento sportivo quando si ha la certezza del risultato fino a quando non si ha la certezza del risultato si può criticare sulla singola partita sulla singola scelta e ogni cosa può cambiare da una settimana all'altra a questo punto se nessuno ci crede più è inutile andare anche a vedersi il resto delle partite si può stare comodamente seduti a casa e ci si diverte a fare il toto di esse così magari lo potete si può fare anche l'anno prossimo insomma se questo è un divertimento se queste diciamo sono le premesse per affrontare in ogni caso un campionato se arriverà il miracolo di serie A o di serie B io credo che non sia da nessuna parte io credo che il presidente Iervolino debba intervenire con grande fermezza ma non perché deve confermare o non riconfermare qualcuno ma perché deve farci capire se crede ancora in questo miracolo o meno che significa? bisogna entrare negli spogliatoi e guardare in faccia innanzitutto questi giocatori che non è che alcuni mi... ma essendo li ho visti proprio dare proprio sputare sangue in alcuni frangenti della partita vorrei avere una partita così decisiva mi sarei aspettato qualche altro tipo di... c'è stato qualcuno che proprio non è stato così arrembante onestamente quindi innanzitutto guardare i giocatori in faccia mettere i puntini sulle I dire ragazzi fino a quando non ci sarà la cristallizzazione del risultato siete tutti in discussione il lettore sportivo, allenatore, anche il presidente tutti quanti sono in discussione poi quando sarà cristallizzato il risultato si discuterà di chi resterà, di chi non resterà, di chi verrà eccetera eccetera io penso che nella normalità delle cose si va a fare questo invece qua già si discute come se ci fosse... stessimo già accompagnando il morto al cimitero e quindi bisogna trovare poi il modo migliore per seppellirlo e iniziare diciamo poi a pensare al domani non so che... non lo so mi sembra veramente assurdo che si arrivi a delle sentenze con un campionato in corso a questo punto io dico io non vale neanche la pena diciamo fare a partecipare attivamente spendere soldi per fare dei ricorsi come andare al CONI a dibattere contro Udinese e Venezia uno non si presentano le giochiamo proprio queste partite magari riconoscono la vittoria a tavolino ci danno anche il punto di penalizzazione io credo che invece siccome si faranno anche dei sacrifici sotto questo aspetto a livello economico non ha senso fare dei sacrifici e poi non crederci fino all'ultimo secondo ripeto è una mission quasi impossible va bene però onestamente tirare le somme quando ancora mancano nove giornate alla fine della stagione quando ancora non si può valutare ci sono alcuni giocatori che non ne possiamo ancora valutare perché abbiamo visto poco all'opera quindi poi dopo aver visto tutti quanti all'opera alla fine di queste nuove giornate come si faceva una volta quello è il problema che le cose andano sempre peggiorando nel tempo invece di migliorare quindi noi ci aspettavamo che il calcio fosse migliore col VAR perché c'era la tecnologia invece ancora non siamo ancora qui a capire come funziona il protocollo sicuramente sarebbe utile la tecnologia se ci fosse un protocollo chiaro e si applicasse correttamente ma purtroppo anche qui siamo sempre alla fine in mano agli uomini dovrebbero funzionare cose con gli algoritmi che così vanno del tipo come funziona diciamo per chi come noi lavora sui siti su Google quindi con il piazzamento del sito in base all'algoritmo o sui social dove funziona anche lì in quel modo quindi non c'è nessuna valutazione umana ma sta anche lì alla bravura di saper interpretare quella quel tipo di algoritmo oltre che poi a dare quella a dare ad inserire il titolo giusto per attirare l'attenzione ma voglio dire c'è bisogno di un netto intervento del presidente che deve innanzitutto guardare in faccia i suoi giocatori dire stop stoppare tutte queste voci di queste ultime ore con un comunicato con una dichiarazione pubblica vuole fare faccia insomma ai mezzi io dico che altrimenti è assurdo che mettere in croce già una persona quando mancano ancora nuove partite perché facendo questo esercizio praticamente si è già sentenziata la fine di tutto perché si trasmette un messaggio sbagliato all'ambiente ai calciatori all'allenatore allora è necessario che in questo momento si azzeri tutto poi quando termina la stagione benissimo il presidente ha tutte le ragioni e ha tutte le possibili ed è il suo diritto è il suo diritto se fare delle valutazioni che lo portano magari a cambiare o a confermare ma questo ovviamente è giustissimo lui è il padrone del vapore lui sceglie gli uomini con cui vuole andare avanti mi sembra anche logico però almeno che non ci crede già più adesso cambia tutti adesso ma mi sembra assurdo cambiare la giornata alla fine non è che possa viene uno di una bacchetta magica che trasforma i giocatori o può prendere altri giocatori nel caso uno cambia direttore sportiva adesso adesso c'è da portare la nave cercare di tenere in rotta di galleggiamento questa nave che sta quasi affondando vediamo se si riesce a far riemergere ma è inutile adesso iniziare a fare toto di esse toto allenatore toto quello e se no si finisce per destabilizzare un ambiente al quale evidentemente piace stare destabilizzato piace divertirsi così quindi se è questo che piace non capisco allora uno che le va a vedere a fare partite quindi voglio dire questo Presidente deve intervenire con fermezza io credo che sia necessario questo dopo dicendo semplicemente che sono tutti in discussione fino alla fine della stagione e che la riconferma parte dai risultati che ci saranno da qui all'ultima giornata al di là poi valutando anche se non dovesse se dovesse andare male ma valutando anche le risposte degli uomini prima che dei calciatori e poi anche dal punto di vista tecnico si faranno le valutazioni opportune ma di tutti quanti se no se non si ci crede ripeto è inutile anche andare a fare il dibattimento al CONI per difendersi davanti ai ricorsi presentati da Venezia non ne giochiamo proprio queste partite quindi non serve a niente e prepariamoci all'anno che verrà voglio dire alla stagione che verrà per meglio dire questo è il mio pensiero su quanto sta accadendo nelle ultime ore con questa situazione inerente il toto di esse che già è partito probabilmente anche le parole i sabatini volevano essere un po' uno sprono all'ambiente anche un po' alla società di far capire insomma che se si vuole credere in determinate cose bisogna intervenire con fermezza a cercare anche un po' di supporto ecco di non andare da solo verso questa battaglia finale perché è importante diciamo che tutti ci credano e se probabilmente ha intuito che c'è qualche scollamento qualche momento di impasse perché è dovuta alla delusione anche legittima di un risultato che non è arrivato però è il momento anche di visti i risultati che vengono dagli altri campi di provarci fino alla fine poi quando arriveranno le certezze quando sarà certo il destino salernitano è legittimo che il presidente faccia le sue scelte che insomma non è che qua stiamo a fare i partigiani di uno dell'altro mi sembra che questa cosa assurda non so se accade qua a Salerno sta accadendo veramente l'assurdo ormai con questa situazione di tra di Welf e Ghibellini che insomma continuano a suonare e cantare loro non capisco dove vogliono arrivare ma forse si divertono così se non ci fosse questo non si divertirebbero questo è quanto vedete cercate di divertirvi con lo sport con quello sano vedete non solo il calcio ma lo sport ripeto quello sano quello che quello che che vuole che insomma chi vince la speranza è che poi non ci siano chissà quali infatti è più bravo chi mette una pallone in più dentro la rete chi arriva prima al traguardo ecco cerchiamo forse sarebbe più opportuno tornare a fare meno chiacchiere più fatti alla prossima